E' stato per tutti il mastro geppetto di Belvedere Fogliense, quell'uomo con la barba con scalpello e martello partito 41 anni fa dalla sua bottega sotto casa e che con le sue creazioni in legno è entrato prima nelle abitazioni e poi nei cuori di tutte le parti del mondo. Francesco Bartolucci, fondatore dell'omonima azienda Bartolucci, ha da ieri comunicato il fallimento volontario della sua impresa. Il Covid non ha guardato in faccia nessuno, neppure ad uno dei colossi dell'artigianalità italiana, sopprimendo tutte le certezze accumulate in quattro decenni di storia. Io ho fatto tutto quello che potevo, sinceramente non mi sento di aver fatto errori, è stata una questione naturale della natura, la pandemia ci ha messo in ginocchio, abbiamo cercato di lottare il più possibile, però alla fine ci siamo stati costretti ad arrenderci perché abbiamo avuto un crollo del fatturato del 90% e è perdurato, non è che sia stata una cosa temporanea perché anche adesso i negozi non hanno ripreso a lavorare come all'inizio. Continuano a fare degli ordini però non è più sufficiente per andare avanti. Poi di mezzo c'è stato anche il nome di un'azienda cinese che sembrava che volesse acquistare le quote o comunque prendere parte della vostra azienda e invece non è andato in porto questo contratto. Sì, sono stati dei contatti molto importanti perché sembrava che la cosa andasse in porto velocemente, poi dopo ci sono stati dei problemi in Cina, sempre per la pandemia, loro sono stati fermi, Shanghai è stata ferma due mesi e in quei due mesi doveva risolversi la cosa, sono stati dei grossi ritardi e adesso è tardi perché ancora continuano a scriverci e a dirci che rileveranno l'azienda, però non si è inconcluso niente. Dalla piccola bottega alle grandi aziende sparse in tutto il mondo però tutto è iniziato da qui, da questo laboratorio sotto casa? Da questa bottega, sì, ho cominciato qui a lavorare a 13 anni, avevo 13 anni, ho cominciato a fare l'intagliatore, poi ho fatto altre cose, poi mi sono spostato in un laboratorio più grande, però è cominciato tutto qui. Con Pinocchio che è stato il primo personaggio che hai creato? Sì, abbiamo fatto prima, ho fatto un paio di Pinocchi, gli amici è piaciuto, me ne dai uno anche a me, me ne fai uno anche a me, allora ho cominciato a costruirne prima 10, poi 15 e alla fine ho detto ma sta a vedere che può diventare un lavoro, era un periodo di crisi, che c'era poco lavoro, mi sono messo a fare Pinocchi ed è avuto un successo, siamo arrivati dopo tanti anni ad avere fino a 60 dipendenti. Nel fine settimana chiuderà il negozio di Firenze e chiuderà anche il negozio di Roma, però comunque ci sono ancora delle attività, dei negozi che privati venderanno ancora per poco i vostri prodotti. Sì, tutti hanno fatto scorte, quando hanno saputo abbiamo avvisato che probabilmente avremmo chiuso, tutti hanno fatto scorte di magazzino e adesso finché avranno le scorte ci sarà del materiale, però non è detto che un domani non potremo, o mio figlio potrebbe iniziare una piccola attività e in parte rifornire i negozi più importanti. Ha parlato di suo figlio, quanto è stata importante la sua famiglia, il legame con la sua famiglia per portare avanti un'azienda per 41 anni? È stato importante perché mia moglie ha sempre seguito tutta la parte commerciale, mio figlio mi ha aiutato in una parte della lavorazione che la curava lui personalmente e anche mia figlia, tutti i rapporti con l'online, tutte le cose che ha seguito sempre mia figlia e io sono sempre stato nel laboratorio perché a me piace lavorare, non sono uno che sta in ufficio, a me piace proprio lavorare e sporcarmi le mani. Il laboratorio di sicuro qui non chiude? No, no, questo rimarrà sempre perché vengono tante scolaresche a vedere, gli faccio delle dimostrazioni, gli faccio vedere la storia perché sono tutti attrezzi antichi, gli faccio vedere come si lavorava una volta, col tornio, rimangono affascinati, mi mandano tanti disegni. È stata una bella favola, vedere la gente entusiasta, la gente che si commuove quando vede i nostri negozi è sempre stato quello che mi ha dato, la soddisfazione più grande è stata quella, vedere la reazione della gente nel vedere questi oggetti è stata una cosa che mi ha sempre colpito, mi ha sempre dato forza, la voglia di continuare. E ora appunto le chiedo cosa farà? E cosa farò? Farò il pensionato, la mia nipotina, che sono innamorato di mia nipotina. Qualcosa faccio perché non sto fermo, non riuscirei, anche perché mia moglie quando non lavoro non mi sopporta.